Lavori di manutenzione straordinaria a Corso Francia a Frosinone. L'ATER infatti ha annunciato che sono stati consegnati lavori per migliorare l'approvvigionamento energetico delle cosiddette torri di Corso Francia, strutture che ospitano all'interno 62 unità abitative. I lavori in questione prevedono la realizzazione di pareti ventilate e l'installazione di impianti per la creazione di energia elettrica. Al termine di questo intervento verrà rivista anche la certificazione energetica degli alloggi che raggiungerà livelli di assoluta efficienza e compatibilità con l'ambiente. È importante sottolineare che questa è la prima volta che viene consentito all'ATER di Frosinone di poter partecipare ai fondi strutturali messi a disposizione dall'Europa e in questo senso è stato possibile accedere ad un finanziamento complessivo di un milione e mezzo di euro da indirizzare poi in tal senso. Il termine dei lavori è previsto per il prossimo mese di agosto. A breve poi annunciano dall'ATER anche altri alloggi popolari in altri comuni come ad esempio ad Alatri, Isola dell'Irie e Ceccano potranno usufruire degli stessi lavori.